Tutto sommato ancora forse non mi rendo conto, per me che sarei 50 presenti al programma, che sia il festival, che sia 50 canzonissimi, o che sia il premio regia televisiva, tutto sommato uguale, sempre io, un pubblico, una platea da far vivere, da quale raccontare qualcosa, probabilmente quando sarò lì forse, poi io vivo tutto in grande leggerezza, grande tranquillità, sognavo di fare questo mestiere da piccino, lo faccio e me lo gogo. Allora vuoi saperlo? Però uno dei venti campioni in grande, questo lo posso dire tranquillamente. Un festival del passato che ti è piaciuto particolarmente? Bene, se chiudo gli occhi vedo il cloro del 71, se non ricordo male, e vi vedo Lucio Dalla che cantava 4 marzo nel 1943, il bianco e il nero. Non presi un po' più? Tutti, tutti, da annunzio filocamo fino a parlo e faccio, quindi tutti quelli che hanno fatto grande e ovviamente il principale è il piccolo. Carlo, per la prima volta ci avete fatto vedere la scenografia? Sì, sì, è ovviamente in versione computerizzata, ma devo dire che la realtà è molto vicina a questo risultato, come avete visto, è molto tecnologica, i grandi protagonisti sono le luci, le luci faranno gran parte della scena realizzata a Riccardo. E i fiori ci saranno, addirittura c'è un fiore coniato per l'occasione che si chiama Cover e che andrà al vincitore del gruppo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.